Stefano Albano, il PD chiama a raccolta i cittadini per aprire un dibattito sulla città che cambia. Dove sta andando questa città? Dove deve andare lo dobbiamo decidere noi. È chiaro che in questo momento nel dibattito stanno emergendo dei temi che inesorabilmente ridisegneranno il volto della futura città, diciamo dalla vicenda dei parcheggi in centro fino allo stesso ponte della Mausonia. Quello che secondo noi in questo momento è importante è che queste opere, come per esempio il ponte, che io ritengo sia un'opera positiva, ma attorno a queste opere si sviluppi un ampio dibattito perché se rimane un'opera isolata rischia di essere un'occasione sprecata. Ecco, sul centro storico che verrà noi dobbiamo necessariamente costruire questo dibattito assieme alle rappresentanze della città e crediamo che il Partito Democratico, che è il Partito di Governo, abbia questa responsabilità. Noi sicuramente prossimamente costruiremo un primo appuntamento proprio che si occuperà di questo. E lo facciamo perché pensiamo che in qualche modo sia cambiata la fase storica che sta vivendo questa città. Noi abbiamo avuto l'annuncio dei soldi del governo Renzi per la ricostruzione fisica un anno fa e questa cosa ha costituito un primo e un dopo secondo noi. Come ci si organizza con le persone per sentirle? Che cosa ha in mente il Partito Democratico, dei convegni, degli incontri, delle audizioni? Che cosa? Beh, allora noi abbiamo lanciato questo percorso qualche mese fa, che era appunto Progetto L'Aquila, che voleva riassumere la tesi che ho detto poco fa. C'è una nuova fase, è una fase che guarda molto al progetto e va interpretata al meglio. Sì, noi costruiremo un percorso fatto di tappe. Il primo sarà a febbraio, lo stiamo finendo di ultimare. E sarà proprio una grande discussione sul centro storico. E sarà proprio una nuova fase, è una fase che guarda molto più svegliere. Grazie a tutti